Musica Buongiorno, stamattina ci dedicheremo alla raccolta delle altre erbe. Purtroppo le condizioni meteo non ci consentono di raccogliere ancora l'origano e quindi cercheremo di raccogliere le altre erbe che invece sono più facilmente gestibili dal punto di vista meteorologico. Dietro di me vedete Calogero, stamattina saremo insieme, andiamo a raccogliere. Raccoglieremo quindi maggiorana, salvia e timo. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti